Stefano ci ha proposto il canto che ci suggerisce di avere ali di aquile per volare in alto, al di sopra di ogni difficoltà. E questo è possibile a quelli che sperano nell'eterno, perché quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze e se siamo qui questa sera è perché abbiamo bisogno di nuove forze, abbiamo bisogno di essere ricaricati dallo Spirito di Dio. Ecco, questo è il nostro desiderio anche per gli amici, per qualcuno che è qui per la prima o per le prime volte, che lo Spirito di Dio possa portarvi al di sopra di ogni difficoltà e soprattutto donarvi la grazia di conoscere l'amore di Dio. E parliamo di amore. È dall'inizio del culto che si parla di amore. E poi la giornata per qualcuno si addice. Tanto vale la pena essere in tema su quello che è il sentimento più speculato. Perché quando noi diciamo Dio è amore abbiamo un'idea ben precisa dell'amore. Però poi quando nella nostra vita parliamo di amore, c'è l'amore dei figli, l'amore dei genitori, l'amore dei nonni, l'amore familiare tra fratello e sorella, c'è l'amore degli amici, c'è l'amore dei colleghi di lavoro, c'è l'amore di quelli che devono avere da noi qualcosa di soliti. Anche quello è amore. Infatti qualcuno ricorda un proverbio che dice che a morire, non lo conoscete questo proverbio, che a morire, conoscete il resto, e a pagare c'è tempo. Ma soprattutto c'è tempo perché chi ti ama e chi avanza qualcosa prega per la tua salute. E quindi c'è un amore, qualcuno direbbe, interessato. E infatti tanti amori sono interessati. Invece quando noi pensiamo all'amore di Dio, quale interesse poteva avere Dio per noi? Anzi, un antico canto ci ricorda quella domanda che spesso, soprattutto quando siamo in una condizione tragica, da stracci, da pezzi di piedi che diciamo al Signore, perché mi hai amato così. E il canto invece invoca perché mi amò così. Questa domanda non avrà mai una risposta alla nostra portata, perché l'amore di Dio non ha alcuna spiegazione. Se dovessimo scegliere un testo per parlare d'amore, quale dovrei scegliere? Vediamo cosa mi suggerite. Se volete che si parli dell'amore di Dio, subito andate. Ecco, Giovanni 3,16, sull'epistola di Giovanni che citava il fratello Luigi. Ma io vi voglio parlare di un amore sensuale. Sì, la Bibbia parla anche di amore sensuale. Anzi, per scandalizzare qualcuno di voi, la Bibbia parla anche di amore erotico. Cantico dei Cantici. Ecco, dentro la Bibbia c'è un libro che parla di Eros, che parla di passione. Non ce l'ho messo io nella Bibbia. Non ce l'hanno messo neanche i discepoli di Gesù. Ce l'hanno messo gli ebrei che hanno scelto, quando hanno chiuso il canone dell'Antico Testamento, di inserire questo testo. E questo testo ha una particolarità. Questo testo che parla di amore accompagnava una delle più grandi feste ebraiche. provo a premere le vostre meningi o a testare la vostra conoscenza biblica. Sapete in quale festa si leggeva il Cantico dei Cantici? le grandi feste ebraiche sono sette. Non ve le elenco tutte sette. Ma provate a tirare. Qual è la più? La? La Pasqua. Come? Nella festa della Pasqua, che per noi oggi rappresenta la morte e la resurrezione di Cristo, ma per gli ebrei ricordava l'uscita dall'Egitto. Quindi l'amore di Dio che accompagnava questo popolo che usciva dall'Egitto per entrare nella terra promessa, quando gli ebrei ricordavano e celebravano la Pasqua, leggevano il Cantico dei Cantici. E noi leggiamo questa sera l'introduzione di questo libro che spero abbiate già trovato e lo trovate nella parte dei cosiddetti libri poetici. Quindi Salmi, Proverbi, Ecclesiast, Cantico dei Cantici. Capitolo primo, leggiamo i primi cinque versi e basta. Il Cantico dei Cantici che è di Salomone. Mi baci con i baci della sua bocca poiché il tuo amore è migliore del vino. Per la fragranza dei tuoi gradevoli oli profumati il tuo nome è un olio profumato versato. Per questo ti amano le fanciulle. Attirami a te, noi ti correremo dietro. Il re mi ha portato nelle sue camere. Noi gioiremo e ci rallegreremo in te. Noi ricorderemo il tuo amore più del vino. Ha ragione, ti amano. Io sono nera, ma bella. Ho figlie di Gerusalemme. Come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone. Cantico dei Cantici. Quindi abbiamo davanti a noi un un canto. È un poema. È il Cantico dei Cantici. Perché Salomone, conosciamo dalla scrittura, aveva scritto, almeno così dice il testo biblico, mille e cinque canti. E questo era il Cantico per eccellenza. Per dire era l'opera migliore. È come un poeta che scrive tante poesie e poi ce n'è una che conoscono tutti quanti. Non so, se facessimo letteratura vi chiederei qual è la poesia più conosciuta di Leopardi. Ma siccome non facciamo letteratura non parliamo di poesie. Che poi qua si va per De Gustibus. E poi Leopardi non era una persona neanche molto felice. Anzi. Lasciamolo stare. Meglio Salomone con le sue poesie e il Cantico dei Cantici. Ma un canto va cantato. Quindi abbiamo davanti a noi così come era per i salmi un testo che era accompagnato dalla musica. Questo dovrebbe essere tanto per rendervi l'idea un'opera lirica. A chi di voi piace la lirica? A nessuno. Perciò si legge poco anche il Cantico dei Cantici. Perciò si predica poco il Cantico dei Cantici perché c'è bisogno di un un po' di sforzo da parte nostra. Però qui non c'è un titoletto. La scrittura ci dice immediatamente il Cantico dei Cantici di Salomone. Quindi è un'espressione di un uomo. E la Bibbia è bella anche per questo. Perché è parola di uomini che Dio ha utilizzato ha ispirato per parlare alla nostra vita. Attraverso la poesia di Salomone noi percepiamo l'amore di Dio per noi. Ma attraverso le parole di Salomone riusciamo a descrivere anche il nostro amore per Dio. Sapete la particolarità di questo libro? Non compare da nessuna parte il nome o il sostantivo Dio. È un libro senza Dio. Però noi lo leggiamo e nelle espressioni d'amore immaginiamo Gesù che ci viene incontro. Immaginiamo noi che corriamo dietro Gesù. Immaginiamo la Chiesa così come i Giudei immaginavano il popolo di Israele che rincorreva il proprio Dio. È questo Dio che si faceva trovare perché era lì Dio che aveva detto cercatemi e io mi farò trovare. E noi come Chiesa leggiamo questo testo e percepiamo l'amore di Gesù. Colui che ci ha tanto amato da dare se stesso per noi. io vi ho letto i versi iniziali per alcune breve considerazioni. La ricerca di questa fanciulla di questa donna se volete approfondire il Cantico dei Cantici vi invito a riscoprire sul canale YouTube di Teleoltre le mie lezioni di Studiando la Parola sul Cantico dei Cantici così darete risposta a tutte le vostre curiosità i primi versi parlano di un desiderio di baci e oggi il dolce per eccellenza questa è la giornata dove si vende un cioccolatino su tutti perché tutte le feste pagane diventate commerciali oggi hanno a che fare con quello che si chiama merchandising o commercialità cosa vi siete mangiati oggi? voi non avete a mangiare e qui non facciamo neanche pubblicità gratuita baci quelli di Perugia no questi sono baci della sulla mita sono baci di una fanciulla che ricerca Salomone e desidera i baci della sua bocca il bacio è un gesto che simboleggia l'amore cosa si chiede a un bambino affinché dimostri il proprio affetto il proprio sentimento poveri i nostri figli ogni tanto c'ho Germe e dice basta costi baci soprattutto quando ha a che fare con persone poco conosciute ma tutti vogliono un bacio ci sono i baci dei figli che arrivati a una certa età hanno pudore di baciare il padre o la madre ci accorgiamo con i nostri figli che non appena diventano adolescenti sono finiti i baci passate alla cioccolata sono finiti perché durante l'adolescenza si scopre un altro bacio non più quello da dare ai genitori quello affettuoso ma quello che comincia ad essere legato ad una sensualità che diventa espressione di un sentimento legato all'eros che non ci deve scandalizzare fa parte della natura umana e la Bibbia è bella perché descrive la natura umana e ci presenta un Dio che è il creatore se siamo così se ci piacciono anche i baci sensuali perché Dio ci ha fatti così e il cantico dei canti ci presenta questa ricerca rivolta a Dio mi baci dei baci della sua bocca poiché il tuo amore è migliore del vino perché si parla di vino perché questa fanciulla lavorava in una vigna anzi alcuni studiosi interpretano il cantico dei cantici con questa storia Salomone teneva una vigna poco lontano ad una trentina di chilometri da Gerusalemme e l'aveva assegnata ad una famiglia bisognosa dove probabilmente c'era una donna vedova che aveva figli da diverse relazioni o da diversi matrimoni aveva due maschi perché si parla di fratellastri qua dentro e aveva due fanciulle la Sulamita e una bambina più piccola e questa Sulamita è quella che attira poi le attenzioni di Salomone e lei le ricambia perché l'occhio di Dio è rivolto su ognuno di noi e l'occhio di Dio è l'occhio di un Dio innamorato non è un Dio che ci guarda tanto per guardarci o per giudicarci o criticarci l'occhio di Dio ci guarda sempre con amore differentemente differentemente da noi che anche quando volgiamo lo sguardo a Dio non sempre siamo innamorati di Dio spesso guardiamo al Signore per criticare per giudicare per lamentarci per accusarlo per parlare e basta io credo che davanti al cantico dei cantici dovremmo analizzarci e domandarci ma la mia relazione con Dio è una relazione d'amore o è una relazione interessata le relazioni interessate i matrimoni di interesse non durano diventano convivenze difficili e quando riescono anche a durare nel tempo si cade nell'ipocrisia si cade nella falsità nello stare assieme per apparenza e Dio non ci vuole ipocriti Dio ci vuole sinceri Dio ci vuole con una onestà dei nostri sentimenti perché lui ha scelto la sulamita che dice io sono nera eppure sono bella agli occhi di Salomone davanti agli occhi di Dio nessuno di noi è brutto nonostante quando ci guardiamo allo specchio non ci piacciamo mai ci vediamo neri corti larghi o qualcuno si vede troppo secco troppo alto c'è sempre un troppo e così era la sulamita che agli occhi degli altri era nera perché era bruciata dal sole lavorava la campagna e chi lavora la terra ha le mani rovinate ha la pelle invecchiata dal sole eppure lei dice ma sono bella e si rivolge alle figlie di Gerusalemme alle ragazze graziose che fanno la vita comoda nel lusso alle cosiddette figlie di papà però Salomone ha scelto la sulamita Dio ha scelto quelli che gli altri avevano scartato ha scelto noi che agli occhi di tanti eravamo brutti e insignificanti Dio ha scelto noi per amore e allora dovremmo gioire dovremmo rallegrarci che Dio ci ama e dovremmo desiderare più baci da parte sua e dovremmo offrirgli più baci maggior sentimento maggior passione voi direte ma come si fa a dire che Dio vuole che noi lo baciamo volete la prova la volete ve la do Vangelo di Luca capitolo 7 la peccatrice ai piedi di Gesù in casa di Simone che l'accusa che la giudica come le figlie di Gerusalemme giudicavano la sulamita nera cotta rovinata dal sole verso 44 del capitolo 7 poi valgendosi verso la donna disse a Simone vedi questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo tu non mi hai dato neppure un bacio ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi chissà forse questa sera la parola ci spinge a baciare i piedi del Signore a baciare le mani del Signore forse andiamo davanti a Lui con troppa autorità siamo figli forse adolescenti siamo figli diventati adulti quando si è all'inizio della conversione nello zelo iniziale siamo sempre faccia a terra a bagnare i piedi del Signore con le lacrime a baciargli i piedi e baciargli le mani poi cresciamo così come accade con i figli naturali arriviamo a un certo punto che non sentiamo più il bisogno di baciare il Signore di abbracciarcelo di stare con Lui di dimorare tanto tempo con Lui e più cresciamo più non sentiamo questo bisogno anzi cominciamo a avvolgere altrove il nostro amore a darlo ad altri e quando diamo il nostro amore quello amore che dovremmo dare a Dio senza accorgercene siamo caduti nell'idolatria perché tutte le volte qualcuno o qualcosa prende il posto di Dio stiamo peccando di idolatria allora che lo Spirito Santo ci aiuti ad amare il Signore come egli ha amato Noai a non vergognarci di baciare i piedi del Signore di avere quel fuoco dentro di noi che ogni occasione è buona per stare con il Signore così quando uno è innamorato ogni occasione è buona anzi anzi le occasioni non si trovano si creano si creano le occasioni con il Signore noi dovremmo fare altrettanto perché se non creiamo le occasioni per star con Lui vuol dire che sotto sotto non lo amiamo più come una volta allora che lo Spirito Santo questa sera ci aiuti a rinnovare il nostro amore per Lui Amen vi chiedo di alzarvi chiediamo al pastore Stefano di proporci un canto per baciare le mani ai piedi del Signore per abbracciare colui che è il nostro Signore colui che ha lasciato la gloria del Cielo ed è venuto in verso di noi che possiamo realmente quando diciamo a qualcuno io amo Gesù grazie a tutti